Dopo i due pareri espressi dal TAR, ora per quanto riguarda la gestione dei servizi sociali è sempre più chiaro il fatto che le vie sono due, o l'unione o la convenzione dei servizi. Ma come si può risolvere la questione per il territorio dell'Alta Valle Seriane e della Valle di Scalve? Io non voglio essere partigiano perché io ho sempre detto che con le risorse che vengono meno, gli anziani che aumentano e i servizi hanno maggior necessità va trovata delle soluzioni. La regione si era impegnata a fare una normativa che valesse per tutta la regione ma non l'ha ancora fatta e non l'ha ancora trovata. La normativa va rivolta a che cosa? Va rivolta a mettere in rete i servizi. Quindi i comuni o le comunità che partecipano a questi servizi mettono in rete tutti i servizi con un'organizzazione che sia funzionale ed efficiente, quindi anche efficace, quindi anche economica, con rese di gestione positive e soddisfazione degli utenti. Come fare? Come fare? Si sono percorse molte strade. Io ritengo, però questo è il parere mio, l'ho sempre detto, però non voglio essere partigiano, che l'unica maniera per gestire in maniera seria, efficace e funzionale i servizi sociali dell'Alta Valle Seriane e Valle di Scalve, perché fanno ambito insieme, nonostante la Valle Seriane, come comunità si è unita alla Valle Seriane. L'ambito è Alta Valle Seriane-Valle di Scalve. L'unica maniera per gestire i servizi in maniera controllata è che questo ambito entri nell'istituzione Sant'Andrea con una quota azionaria. Questo andrebbe a risolvere due problemi. Primo, perché in questa maniera si utilizzerebbe il Sant'Andrea come braccio operativo dell'ambito e quindi andrebbe a gestire nella maniera che il comitato ristretto dei sindaci, che ha tutti i rappresentanti delle due comunità e degli ambiti locali, darebbe gli indirizzi e il braccio operativo. Poi con un controllo analogo, che è previsto dalla disposizione legislativa, avrebbe anche il controllo sull'efficacia e l'economicità della gestione. Quindi, se il servizio mi costa 100 lo pago 100, se mi costa 80 lo pago 80. Quindi senza nessun guadagno da parte dell'istituzione. Secondo me l'unica maniera è quella lì. Chiaramente chi vede l'istituzione Sant'Andrea come un predominio, come un utilizzo di una struttura da parte del Comune di Clusone e quindi con una prevalenza, importanza del Comune di Clusone, la vede in maniera sbagliata. Perché con una quota azionaria all'interno per i vari servizi è come se l'istituzione agisse come un servizio di ogni singolo Comune. Il controllo analogo previsto dalla normativa europea e quella italiana prevede la gestione dei servizi come se fosse un servizio dello stesso Comune. Qui farei un cammino ancora più esasperato. Prenderei proprio le azioni dell'istituzione. Cioè entrerei come quota azionaria, cioè i 24 comuni insieme come ambito entrano come una quota azionaria all'interno dell'istituzione. Quindi il Comune di Clusone è uno dei 24, non è predominante o non è quello che è o dirige la baracca. Direi che in questa situazione non ci sono né raccomandati né quelli che sono penalizzati. Secondo me l'unica soluzione è quella lì, che metterebbe tutti sullo stesso piano. E quindi consentirebbe una gestione reale senza nessuna verniciatura politica o istituzionale.